Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Una domanda, si riuscirà, al di là delle pregiudiziali, a fare un percorso che sarà riunificativo delle componenti di sinistra? Io penso di sì che sinistra italiana, Rifondazione Comunista, i movimenti, l'altra Europa, possono e credo arriveranno, bisogna lavorarci, per presentarsi a prossime elezioni unitariamente. Grazie.